Grande successo per la cerimonia le fonti day and night tenutasi lo scorso giovedì 8 novembre a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata, introdotta da un keynote speech del noto giornalista e scrittore Alan Friedman, ha visto lo svolgersi di tre tavole rotonde dove esperti del settore si sono confrontati riguardo alle sfide delle char manager 4.0, l'evoluzione del lavoro nel terzo millennio, il Jobs Act e il decreto dignità. La sera ad aprire la cerimonia di premiazione è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e Leadership, come competere in un mondo che cambia. Il dibattito moderato dalla giornalista Deborah Rosciani ha coinvolto esperti che hanno disquisito sulle principali tematiche del settore e le sfide che questo sarà chiamato ad affrontare. Boutique di eccellenza dell'anno, consulenza, diritto del lavoro, Rise and Star, il premio viene assegnato allo studio legale FM Low, per essere divenuta una boutique di eccellenza, dimostrando la massima preparazione e la massima competenza in tutte le questioni legali, in particolare per la visione pragmatica e lungimirante, la professionalità e la specializzazione dello studio, contraddistinguendolo a livello giudiziale e stragiudiziale in materia del diritto del lavoro. Boutique di eccellenza dell'anno, consulenza, diritto del lavoro, Rise and Star. A Elefanti Awards lo studio legale FM Low si aggiudica il riconoscimento come boutique di eccellenza dell'anno nella consulenza, nell'ambito del diritto del lavoro, Rise and Star. Ne chiedo un commento per questo importante riconoscimento. Allora, per me è stata una piacevolissima sorpresa, sicuramente è stato il frutto del lavoro svolto in questi anni, perché abbiamo cercato di fare tutto al meglio e comunque di arrivare ad una sempre più elevata professionalità. Devo dire che appunto questa è una vittoria di squadra, perché sicuramente a questo ottimo risultato hanno contribuito anche tutti i miei collaboratori. Come cambia il mondo del lavoro nel terzo millennio? Il mondo del lavoro sicuramente è cambiato tanto, basandosi su un discorso di flessibilità. Ci sono state numerose riforme nell'ambito del diritto del lavoro, siamo partiti appunto con la riforma della legge Biaggi, poi abbiamo avuto il collegato lavoro, la riforma Fornero, il Geobact, il decreto di unità. Sicuramente tutte queste riforme hanno piano piano modificato lo statuto dei lavoratori con particolare riguardo all'articolo 18 e questo ha fatto sì che inevitabilmente, soprattutto con il Geobact, si è diventato più facile licenziare, perché come sappiamo la reintegra è stata quasi completamente esclusa ed anche le indenità risarcitorie sono state ridotte praticamente al minimo. E non solo, sicuramente anche l'utilizzo dei contratti a tempo determinato dopo il Geobact è stato molto più elevato, perché inevitabilmente è stato un ottimo strumento per le aziende, considerato che potevano essere fatti i contratti di 36 mesi, che non c'era bisogno appunto di nessuna causale. Questo sicuramente ha determinato da una parte una mobilità del lavoro e quindi un abbandono del concetto del posto fisso, un po' come era per i nostri genitori che appunto iniziavano la loro vita lavorativa in un'azienda e la terminavano nella stessa azienda. Dall'altra parte però sicuramente c'è anche del precariato, perché ovviamente purtroppo è inevitabile. Dall'altro lato sicuramente io credo che le evoluzioni future saranno di una sempre maggiore flessibilità e per quanto riguarda il mondo delle relazioni industriali io credo che sicuramente il colloquio tra le parti sociali sia destinato piano piano a diminuire sempre più. Si parla del decreto dignità come una normativa sfavorevole all'azienda, qual è il suo punto di vista? Sono d'accordo, perché sicuramente il decreto dignità ha modificato appunto punti importanti del Geobact e mi riferisco in modo particolare ai contratti a tempo determinato, perché appunto siamo passati da 36 mesi a 24 mesi e non solo, è stata inserita la causale dopo i 12 mesi, che peraltro è ancora più restrittiva rispetto alla causale prevista prima di tutte queste riforme. Quindi parliamo del decreto legislativo 368 del 2001, dove comunque si parlava di una causale legata a motivi di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, che aveva comunque un ampio spazio per poter appunto formulare questi contratti. Oggi invece sicuramente vengono richieste delle motivazioni appunto che sono addirittura estranee a quello che è l'attività ordinaria dell'azienda, temporane, o comunque si parla di picchi di lavoro. Quindi diciamo che è diventato molto complicato poter appunto assumere una persona a tempo determinato secondo me. Poi è chiaro che bisogna vedere quelle che saranno le evoluzioni giurisprudenziali e anche dal punto di vista dei licenziamenti, per quanto non c'è stato uno stravolgimento da parte del decreto dignità, comunque sono state aumentate le mensilità per il caso di licenziamento illegittimo e quindi il risarciamento del danno.